Corrono le biciclette, le ragazze di 40 anni, sulla strada per il catecluso, ovvero un torneo di calcio, torneranno a farsi le serie, e a qualcuno tornerà l'altro, forse si mi morirà, ma sarà per poco tempo, o meglio, per poco amore, trovati in una scuola media, o forse in una discoteca, tronacci da una lanciata, o in un pomeriggio di vacanza, a farsi male. Si salverà dagli amori negali, e dalle banche che rubano bene, prima dei giorni nuovi, su una strada la pronuncia, la colpa all'esterno, tra i conti e l'inferno, il Vangelo è lo scorso, il Vangelo è lo scorso, ma chi ne sai che cosa vuoi, ma chi vuol dire, ma chi vuol dire il tempo passi, ma chi vuol dire il tempo passi, ma chi vuol dire i 40 anni o 100 anni, non è proprio perché, non possiamo più giocare, e ne ha più a farci male, perché tutto deve andare sempre, come il normale. Ci salderemo dagli amori negali, e dalle banche che rubano bene, rimanere i giorni nuovi, sulla strada pronuncia, la colpa all'esterno, tra i conti e l'inferno, il Vangelo è lo scorso, il Vangelo è lo scorso, ma chi vuol dire il provano bene, rimanere i conti e l'inferno. www.ilald validate karyebao www.ilaldfestella.it Grazie.